buongiorno a tutti e benvenuti nel video tutorial di learning apps un'applicazione web che permette di creare dei giochi interattivi tramite l'utilizzo di template che l'app mette a disposizione e al momento si possono creare 21 tipologie di giochi questa è la schermata home dell'applicazione e andando nel menu qui in alto sulla voce cerca tra le app si possono visionare i giochi esistenti che possono essere utilizzati direttamente come attività didattiche oppure possono essere utilizzati come template su cui costruire poi la propria applicazione e il proprio gioco learning apps è un'applicazione gratuita non richiede necessariamente la registrazione ma se si vogliono rendere condivise pubbliche le proprie creazioni quindi i propri giochi le proprie app è necessario registrarsi ora vediamo come utilizzare le app esistenti andiamo quindi nella voce cerca tra le app clicchiamo per esempio su un'app e appunto la si può vedere in modo dettagliato e di conseguenza approvarla come dicevo prima le app esistenti possono essere usate come modello per crearne di proprio basterà cliccare su crea app simili in alternativa possono essere salvate nel proprio account l'importante è appunto registrarsi notiamo infine che ogni app può essere condivisa tramite link oppure incorporata in siti web se invece si vuole creare una nuova app senza utilizzare i modelli esistenti si può cliccare su crea app e scegliere poi quindi tra i vari modelli vuoti che l'applicazione mette a disposizione questi sono tutti modelli utilizzabili per creare la propria applicazione quindi basta sceglierne uno cliccarci quindi sopra lo si può prima provare e poi cliccare su crea app nuova in questa schermata bisogna andare a inserire tutte le informazioni richieste allo scopo appunto di creare il proprio gioco e poi alla fine cliccare su mostra anteprima e sarà possibile poi salvare la propria app il proprio gioco sul account personale dopo essersi registrati sarà appunto possibile salvare le proprie app create nel proprio account quindi questa è la dashboard del proprio account dove appariranno le collezioni create e tutte le app che sono state salvate dai modelli esistenti oppure da quelle che sono state create le app poi possono essere anche raggruppate in cartelle e cliccando invece su crea una nuova collezione si possono organizzare le app in collezioni da assegnare poi ai propri studenti per farlo quindi è necessario anche in questo caso dare un titolo alla collezione e aggiungere le app che ne faranno parte compilare gli altri campi richiesti come per esempio se si vuole tenere traccia del lavoro svolto dei propri studenti e una volta creata sarà poi possibile condividerla tramite link poi da questa schermata si può vedere per esempio quanti studenti hanno svolto i loro compiti assegnati tramite le app e cliccare su stato di lavoro per vedere appunto tutte le app che sono state aggiunte e qui sotto invece appariranno i nomi degli studenti e si potrà appunto vedere quali studenti hanno svolto i loro compiti assegnati tramite queste app abbiamo visto quindi che learning apps è un'applicazione molto semplice da utilizzare e l'obiettivo è quello di poter sviluppare condividere attività didattiche molto semplici però efficaci per tutte le età e discipline il video tutorial è terminato buona giornata a tutti ciao 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 Grazie a tutti.